Loro stanno ballando, non ti preoccupare Gio Ha preso, visto Grande Due su tre, dai facciamo ancora un tentativo Sì, puoi picchiarlo, non è che devi stupire basta Se vuoi prendere una bottiglia di vetro e contrastarlo, vuoi E adesso li sto Mi piace, non è la tua giornata fortunata Grazie